Ehi poveri lettori, a smanettare con lo zoom nei loro apparecchi di lettura quando acquistano Un ebook in formato pdf dai vari siti, dalle varie librerie di ebook che esistono in Italia Sono certamente più fortunati i lettori che vengono su ebooks Italia Perché? Perché cari lettori, gli ebook in pdf per essere letti su apparecchi di lettura mobili o anche sull'iPhone Devono essere impaginati in una particolare maniera Che facciamo? Guarda caso, soltanto noi Non la fanno nella Mondadori, nell'Arizzoli, nei grandi gruppi editoriali Andate a vedere su ebooks Italia gli ebook che sono indicati come adatti per i book reader Ne troverete tantissimi Andate a vedere su ebook